Benvenuti raga, qua è Savix che vi parla Allora ragazzi oggi vi voglio portare una sorta di tutorial per farvi un bel personaggio maschile ragazzi Ho già portato il femminile, ve lo lascerò in descrizione raga Se vi interessa e vi piace e volete fare un upgrade del vostro viso, del vostro personaggio ragazzi Questo è il video che fa per voi E adesso vi lascio al video raga, buona visione Ah mi raccomando iscriviti al canale ragazzi perché la maggior parte della gente che guarda i video non è iscritta al canale ragazzi Bella raga, alla prossima, vi lascio al video Se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi le completi moddati non esitare a contattarmi Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen raga E se siete giocatori di Playstation trovate in descrizione gruppi anche per Playstation ragazzi Iscriviti a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube E adesso al nuovo video Iscriviti a tutti i miei sociali 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.